Devo dire che sono un po' intimidita, perché non sono abituata a stare su un palco, tanto meno a parlare. La mia attività è disegnare, inventare e stare dietro le quinte. Ma questa sera io ho proprio il desiderio di ringraziare la signora Anna e Vittoria per questo riconoscimento che mi hanno fatto. Per me è un grande onore far parte ed essere entrata in questo teatro che fa cultura, che fa bellezza. Voglio ricordare personalmente anche con affetto il maestro Muti che ci dette la possibilità di entrare la prima volta qua con il Nabucco di Verdi e tante altre opere. Sono molto orgogliosa di stare tra tanti nomi prestigiosi. Grazie.